Cioè io ho aperto la porta e ho visto 300 tipe, tutte coi pantaloni abbassati a far vedere il culo Una situazione di un attimino borderline Ho chiamato l'agenzia e ho detto ma voi siete fuori, io sono una ragazza seria Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement Bentornati, questo vuol dire nuovo amico, anzi nuova amica quest'oggi Perché è già inutile che faccio lo splendido, avrete visto probabilmente il titolo, avrete visto già il teaser in cui magari abbiamo annunciato l'amica che è passata a trovarci oggi Intanto ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su Youtube Se invece ci state ascoltando o guardando sempre su Spotify, grandi, continuate a farlo anche lì Iscrivetevi, attivate campanelle e cose varie così siamo e siete sempre sul pezzo Perché tutte queste cose belle accadono grazie anche e soprattutto a voi che ci state seguendo ed ascoltando con tanto affetto Ed è per questo che sono ancora più contento oggi che dal Basement è passata Attenzione, Michelle Unziker Ciao Mamma mia quanto sognavo di dire questa cosa Ciao Gianluca, ciao a tutti Misch, grazie mille per essere qui oggi Ma grazie a te, non vedevo l'ora di vedere il tuo bunker Eh sì, esatto È troppo bello con tutti i tuoi cimeli, con tutte le tue cose che già mi hai presentato Esatto, perché forse non tutti sanno che c'è proprio un rito di inizio che insomma io che provo a raccontare più o meno quello che c'è davanti La cosa bella è che in tanti casi questo racconto un po' dei pezzi, delle cose particolari che ci sono, anche dei ricordi di quel Basement Poi va a scatenare anche delle cose nelle persone che vengono nei dosi di qualsiasi mondo E certo, io già mi sono vergognata perché non sapevo che gli amici ti portassero delle cose Adesso la prossima volta vengo apposta e ti porto un mio cimiglio, per te Beh allora, se porti quello che hai detto prima fa ridere Michelle ha detto allora la prossima volta ti porto il vestito che ho messo a Sanremo Sì, perché mi faceva ridere, sono solo cose maschili qua, capito? È vero Cioè gaming, c'è tutta quella roba lì, Lego C'è la cuffia di Federica Bellegrini che però è unisex la cuffia Quella esatta Però è unisex Invece, oh, un vestito di Sanremo Ci sarebbe No, scherzi a parte, sono anche particolarmente contento perché noi ci conosciamo da un po' di anni Però di fatto è la prima cosa che facciamo insieme Ma è incredibile Eh ma perché le cose devono accadere sempre nei momenti giusti È vero, è vero No, sono super contenta, anzi complimenti perché stai andando alla grande No, guarda, mi fa super piacere e soprattutto detto da te vale triplo Perché anche per questo, di solito quando faccio l'intro all'inizio Che dico tutta questa, hai sentito tutta questa trafila Ragazzi iscrivetevi Eh perché comunque è un mezzo di comunicazione nuovo, no? Sono media nuova, YouTube ci sono dei nuovi linguaggi, delle nuove regole Anche dei nuovi riti E so che dicendole con te davanti non mi sento in imbarazzo quando magari ci sono magari degli ospiti che arrivano Magari anche loro da mondi diversi, da mondi tradizionali come la tv diciamo tradizionale Che in realtà tutte le volte restano Invece tu sei sempre sul pezzo E questa è una cosa che io, perché anche su tutta la parte, chiamiamola nuova Che ormai c'è da diversi anni, il mondo dei social e tutto quel linguaggio lì Tu ti sei sempre messa in gioco E ancora oggi ti inventi delle cose proprio per essere sul pezzo Ma per forza bisogna essere sempre 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 lì concentrati su nuovi obiettivi Poi vabbè io sono fortunata perché avendo avuto una figlia a 19 anni Lei ha solo 19 anni in meno di me Mi ha sempre tenuta comunque aggiornata anche su tutto il linguaggio nuovo In più io ero attentissima proprio perché dovevo fare il vigile urbano E vedere che le cose funzionassero durante l'adolescenza Ero la prima ad essermi iscritta su Facebook La prima che aveva tutto sotto controllo La vivi giustamente per capire Auri aveva 14 anni quando è arrivato Facebook Io avevo capito immediatamente che sarebbe stato comunque una finestra sul mondo Una finestra nuova e non è che ero contraria Ma ho detto io devo immediatamente capire il mezzo Perché se no, lei furba, faceva gli account fantasma Mi fregava sempre Però a un certo punto la beccavo E lei diceva mamma ma perché mi becchio ancora prima che le pensi È molto bella Tra l'altro Auri ne approfitto la saluto perché è stata veramente una delle prime Come se non la prima a credere nel basement Vedi Quando ancora lo stavamo costruendo lei già era venuta qui Insomma Auri avanti E quindi ha portato anche fortuna devo dire su queste cose E salutiamola che adesso fa la mamma a tempo pieno Mamma mia E bravissima Ma com'è tutta questa nuova situazione No ti dico è una cosa meravigliosa Io mi sento mamma bis perché anzi mamma al cubo Certo Perché quando lo tengo in braccio Cesare ha la faccia di Aurora in maschio Quindi mi si sbloccano i ricordi di quando era piccolissima Proprio è un'emozione Guarda non te la so neanche spiegare Poi l'ho visto nascere Ma ci credo Poi io Auri figurati Voi conoscete la sua storia La mia storia Quella che abbiamo avuto insieme Ho spesso anche raccontato che lei dai 16 ai 19 mi ha fatto morire Quindi io quando l'ho vista Che ha visto il suo bebè Ed è diventata mamma Immediatamente Cioè l'emozione è stata Lì capisci proprio che diventi madre È vero anche nel momento in cui lo senti crescere dentro di te Ma quando vedi il tuo bambino Pam Che roba Cioè come dici tu Ti senti mamma bis Mamma al cubo Anche perché comunque Aurora hai detto Hai avuto che avevi 19 anni Sì Quindi rivivi quel tipo A parte che va bene Insomma poi sei diventata mamma nuovamente In età diversa Sì Quindi hai visto proprio tutte le Le differenze Che come Il tuo stato d'animo Come cambia nelle varie Situazioni È sempre una nuova sfida Una nuova emozione Perché appunto Quando diventi mamma a 19 anni Non hai l'esperienza di vita Per cui ti aggrappi alle regole E le regole ti aiutano tantissimo Perché così cresce il tuo figlio Appunto un pochino magari Più in modo severo Però Almeno hai una direzione Quando poi Arriva a fare dei bambini a 30 anni E in più Io avevo 34 anni Con sole E poi 38 con celeste Chiaramente hai l'esperienza di vita Sei più morbido Più flessibile Te la godi di più Cioè non ti allarmi Se non fanno la cacca Subito nel vasino Ok ok Cioè diciamo che Il secondo giro E il terzo giro Avrà il pannolino A fine 18 anni Invece al primo figlio Ti fai tutte Tutte le menate Ok No è bello E poi appunto Diventare nonna È stato qualcosa di Di emozionante Me l'hanno sempre detto tutti Eh guarda che Quando ti arriverà il nipote O la nipote E non si riesce a spiegare bene Perché è come La vita che continua La tua genetica Che si sparge È qualcosa di straordinario Deve essere Poi ripeto Adesso l'hai detta tu La parola che Nel tuo caso a me Fa quasi impressione Dire che tu sei nonna Te l'avranno detto tutti Fin dall'inizio Nel senso che Chiaramente Tu ti aspettavi Di diventare nonna Così giovane Io volevo Anzi Diciamo che Auri mi ha fatto Anche aspettare giustamente Dai 26 anni Però se le avesse fatto Un bebè Alla mia età Cioè a 19 Io a 39 A 40 Sarei stata nonna Però guarda Io non ho affatto Non faccio fatica Quando prendo il Cesare In braccio Io lo guardo Dico amore Nonna Lo dico proprio Con convinzione Non ho Perché non è correlato Nella mia testa All'avanzare degli anni È correlato Con appunto Il progredire Della tua genetica Il andare avanti E vedere come la vita Si evolve Ed è bellissimo Beh cavolo Quindi non ti ha fatto impressione Questa cosa Zero Zero Poi anche perché Forse Anche perché appunto Sono giovane Nel senso che Ho due bambine piccole Da crescere Io sono ancora nel mindset Materno totale Per cui non è una cosa Che ti può fare impressione Ci sono un sacco di nonni Giovanissimi in Italia Che A loro dico sempre Ragazzi dovete essere Super orgogliosi Cioè non abbiate paura Di dire la parola Nonno Nonna Perché appunto Bisogna togliersi Questa cosa qua Che è correlato con l'età Quando invece diventi nonno A 60-70 Fai più fatica Perché ti senti Ti accorgi Che effettivamente Qualcosa sta In quel caso lì Qualcosa sta cambiando Beh no Poi il nonno Diciamo Anche nel mio caso Sono le figure Che poi ti restano Nel cuore Per sempre No Poi ho un rapporto Con i nonni È una roba Io so già Che a Cesare Farò fare tutto Quello che non può fare Con i suoi genitori Ci sono già dei vizi Ma io dico già Quando è con me Dico amore Io e te Faremo un sacco Di cose belle Tutto quello Che non puoi fare Con la mamma La fai con me È così Di solito Di solito funziona così E godi Nel pensare Sta cosa qua Godi di brutto Non so perché No però Come dici tu Il fatto di essere Probabilmente consapevole Che sei ancora giovane Super in forza E voglia di fare Sì ma io lo porto A fare Kyo Kusinkai A combattere Lo porterò a calcio Ci gioco anch'io A me piace giocare a calcio Non importa Tra l'altro Lo sport Parte integrante Credo della tua vita Perché per mantenersi Così Per mantenerti Anche così In forma Sempre Quanta attività Cioè di presto Ti sei messa la giacca No prima Mentre siamo arrivati C'era un po' caldo Non avevi la giacca su Avevi dei bicipiti Che facevano Cioè comunque Lo sport In questo momento Che quanto occupa Nella tua Non so se quotidianità Ma penso di sì Quotidianità Io mi alleno tre volte La settimana Cascasse il mondo Lo integro In tutte le mie cose Da fare Perché per me Ho un investimento A lungo termine Sulla salute Lo dico sempre Perché è chiaro Che io fino ai 30 33 anni Mi sono sempre allenata Outdoor Perché sono comunque Arrivo dalla Svizzera Ho due polpacci così Che me li sono forgiati La genetica Con uphill Downhill Mountain bike Comunque sono una Che ha sempre fatto Un sacco di sport Non sono mai andata In palestra Fino ai 30 anni Così poi A un certo punto Cioè fino ai 30 anni Tu non sei mai andata In palestra No mai in palestra Sempre tanto sport Ma outdoor Cioè proprio Sci nautico Sci Snowboard No Però Cosa ho capito Che hai 30 32 anni A un certo punto Starnutivo Rimanevo bloccato Cacchio ma C'ho solo 32 anni Ma come mai mi blocco Così c'è qualcosa Che non va Allora Ho approcciato Proprio all'abici Delle scienze Delle scienze motorie Cioè capire Dov'è il tuo deficit Perché non c'è Un essere umano perfetto Nel senso Di proprio osseo Di anatomia Per cui è chiaro Che tu nel momento In cui cresci E diventi più grande Tu continui a compensare No E se tu non forgi Non rinforzi La tua muscolatura Se tu hai qualunque deficit A livello proprio Di osseo A un certo punto Ti viene fuori Ok Per cui ho iniziato a fare Corpo libero Prima ho approcciato Il corpo libero Poi alla palestra E sono andata a lavorare Proprio a livello posturale Prima E da lì ho scoperto Un mondo Ho detto Dio Cioè questo è proprio È l'investimento Sul futuro Per cui pian piano Mi sono appassionata Tantissimo Le scienze motorie Ah ok Quindi di più Di più tipologie Sì perché appunto Sono partita Prima dalla consapevolezza Di che cosa volesse dire Fare sport In modo protetto Quindi Quando tu fai un plan Che devi sapere Come devi integrare Le coste Come ti devi mettere In modo tale Per non farti male Eccetera Nel momento in cui Alla bc dello sport E ce l'hai Puoi approcciare la pesistica Puoi approcciare Tutto quanto Ed è L'investimento sul futuro Tra l'altro Da quando faccio pesistica Ti dico Io sto da Dio E mi rendo conto Andando anche a fare Degli studi Che è stato scientificamente Provato Che la resistenza Del peso Fa bene alle ossa Contro l'oste porosi Comunque Man mano che vai avanti Devi Lavorare di più È bello il concetto Dell'investimento Poi sul futuro Cacchio perché noi pensiamo Sempre solo A essere fighi Ma non è quello Non è quello È veramente Un investimento Però poi la conseguenza È che sia anche meglio Certo Io gli ho dico sempre Perché il cappotto Poi arriva di conseguenza Ma in una tua giornata Dove lo metti L'allenamento Cioè tu immagina Non so Lo metti proprio Io ad esempio Il mio switch mentale È stato quando Io l'ho preso Come se fosse un lavoro E lo inserivo nel mio calendario Come se fosse Nel mio calendario Come se fosse un lavoro Io anche con la Graziella Mi sveglio alle 6 Tutte le mattine Rigorosamente Durante la settimana Perché per me è fondamentale Svegliarmi Prepararmi Preparare le bambine Portarle a scuola Fare colazione con loro Eccetera Poi torno Mi alleno E io alle 10 Devo essere pronta Per affrontare la giornata E fare qualunque cosa Dobbiamo fare Però Non posso non allenarmi Prima hai citato Una disciplina Che io non riesco neanche A ripetere il nome Speravo lo rifacessi Tu Kiyo Kushinkai Esattamente Che d'altro volevo dire Proprio quello Che è ormai Che è la tua disciplina Di questi ultimi anni Sì Ho iniziato Durante il lockdown All'inizio Ho proprio iniziato A conoscere questa disciplina Durante il lockdown Io non avevo mai approcciato Le arti marziali Quindi ero vergine Cosa che era molto buono Perché chiaramente Se sei un foglio bianco Puoi lavorare molto bene Su una nuova disciplina E è stato amore A prima prova Ma cos'è una disciplina Del karate? È karate Full contact In Italia La conoscono in pochi Perché in Giappone La usano proprio I servizi segreti Come È una delle Arti marziali Più dure in assoluto In assoluto Perché è a pugno nudo Cioè combatti Proprio full contact E l'idea è quella Proprio di affondare E prendere e darle Ma chiaramente C'è tutta la disciplina Del karate Dalle parate Alla tecnica in movimento Tecnica in ferma Katà E poi Kumite Che è il combattimento Ci sono tutte le cinture Anche qui Anche qua Fai gli esami Ci sono tutte le cinture Tu sei una cintura qualcosa Io sono cintura blu Ok Cintura blu Io ho iniziato praticamente adesso tre anni fa Però lo sto facendo in modo molto intenso Perché mi piace tantissimo Perché è una disciplina E fare una disciplina Ti dà una forza mentale Un focus Che non ho mai avuto fino ad ora Perché per riuscire a farla Devi veramente essere concentratissimo Altrimenti le prendi Certo La conseguenza qua è che poi le prendi E non solo E anche che non riesci neanche a studiarti i katas Sono come dei balletti Dei combattimenti con un nemico immaginario E la forma Sai i giapponesi Sono molto molto precisi Perché per dare un colpo Il colpo se è veramente forte Deve essere quasi geometrico Cioè tu hai una posizione delle gambe Una posizione a livello posturale L'anca deve uscire Deve affondare Il pugno deve arrivare con le prime due nocche Se vuoi colpire allo sterno Deve essere la bocca dello stomaco Cioè deve essere preciso E lì è bello Sì ma lì come ci sei Cioè te l'ha consigliato qualcuno Come ti è venuto Sì me l'aveva consigliato Eros Durante il lockdown Perché ha detto Guarda che conosco questa Lui aveva iniziato a fare anche lui questa disciplina Ha detto Secondo me ti aiuta tantissimo Perché tu sei un tipo Che potrebbe veramente apprezzare questa disciplina Abbiamo iniziato E via E adesso sei nel tunnel Io sono molto Molto nel tunnel Ma nel tunnel in modo sano Sì sì no è chiaro È bello Poi c'è una passione Soprattutto nuova Ti smuove E come tutta questa tua Anche questa tua passione per lo sport O in generale Come si riflette sul tuo lavoro? Si riflette nella maniera È una filosofia di vita Perché vabbè Io arrivo da un posto Dove quando aprivo le finestre Si vedevo le montagne Per me il piacere era correllato con la fatica E la gioia nel fare fatica Perché quando noi cresciamo in Svizzera Con ogni giorno educazione fisica a scuola Rigorosamente ogni giorno Per cui già abbiamo un mindset di competition Di obiettivi da raggiungere I valori dello sport I valori dello sport E poi per andare a sciare Avere tre minuti di piacere Comunque la fatica Capito? Del dire Ok io devo arrivare in vetta Faccio fatica Ma poi quei tre minuti di divertimento Sono assoluti E questa è la mia filosofia di vita Cioè io so Che per arrivare da punto A A punto B Io per fare quello che mi piace Farò tante cose che non mi piacciono Ma sono contentissima di farle Perché lì voglio arrivare Quindi non faccio fatica Capito? Sì Beh il concetto è chiaro Poi bisogna farlo Bisogna farlo davvero E no perché Adesso sai il problema oggi È che ti dicono tantissimi In tantissimi dicono No ma io non voglio fare questa cosa Perché io devo fare Quello che mi appassiona E invece secondo me Per arrivare a fare quello che davvero ti appassiona Devi fare anche tante cose che non ti piacciono E avere un po' Io dico sempre alle mie figlie Dovete grattare Dovete Dovete mettervi in discussione Imparare le cose Perché è troppo facile dire Ah non ti arrivano adosso le cose Come fai a fare da subito le cose che ti appassionano? Non è possibile No Cioè ci deve arrivare No? Sì È un po' quello No questo è un concetto fortissimo E anche grazie per averlo detto Perché poi tante cose Anche tutta questa tua Insomma Come dire Più che passione Anche disciplina Come dicevi nei confronti dello sport Perché uno magari ti segue Ti vede Vede che fai delle cose Che raggiungi delle cose O semplicemente dice Cavolo ma mi scelunzi Che è la nonna Guarda com'è Però dietro c'è un lavoro No è un lavoro immane E poi attenzione Non è che mi sveglio la mattina E sono contenta E felicissima di andarmi a allenare Sai quante volte mi sveglio Dico no L'essere umano Gamia voia De fa fatica Questo è svizzero Il classico No ma l'avete Sì esatto Classico Cicinese No Era bergamasco Non ha voglia Non abbiamo nella nostra natura Il nostro cervello È programmato Per stare in protezione Per metterci a riposo Per fare il meno fatica possibile Quindi è chiaro Che se noi seguiamo Lo stomaco La gola Lo seguiamo Il nostro non aver voglia Di approcciare alla fatica È chiaro che non la facciamo Però È Ciò che raggiungi Facendo fatica È talmente una gioia incredibile Che poi Fai fatica con gioia Quindi Si riflette su tutto E quando mi scrivono sotto Dicono Eh vabbè è facile Hai soldi Essere in forma con i soldi È facile No No esatto Era proprio esattamente Quello che volevo Che volevo dire No mi fai un culo così Perché comunque c'è anche lì Tanto tanto lavoro Insomma Dietro sacrifici Poi ovviamente Ci sono a tutti i livelli Sì 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 Però No ma in tutte le cose Cioè Devi far fatica In tutte le cose Con l'amicizia Con l'amore Anche il tuo percorso In generale È pieno anche Di queste poi Situazioni Perché tu sei arrivata A Milano direttamente Dalla Svica No sono arrivata A Bologna A Trebbo di Reno Perché mia mamma Si è innamorata Di un italiano Quando avevo 16 anni E sono andata a finire In un bellissimo paesello Che si chiama Trebbo di Reno E da lì Un anno a Trebbo Ero extracomunitaria Non c'erano ancora Gli accordi bilaterali Tra Svizzera e Italia Quindi code Per fare Il permesso di soggiorno Non avevo Non mi accettavano Il diploma Della mia scuola Per cui ho ricominciato Da capo Abbastanza faticoso L'inizio in Italia E allora Proprio per questo Visto che avevo capito Che avrei dovuto Ricominciare Dalla prima liceo A dire Ich heiße Michelle Du bist Gianluca Ed era la mia lingua madre In più Il francese L'avevo studiato da nove anni L'inglese anche Mi stavo annoiando Tantissimo Mi facevo pagare Per fare i compiti Agli altri Ho detto No Io questo Non è il mio percorso Avrei voluto Tantissimo Studiare di più Però capivo Che sarebbe stata Una vita Che non corrispondeva Alla mia anima E al mio modo Di vedere le cose Quindi ho preso 200 Ho chiesto a mia mamma 200.000 lire Per vendere un treno E sono andata a Milano E ho provato a lavorare Cavolo Così proprio All'avventura A 17 anni Senza nessuna promessa Senza niente No Ho preso delle porte In faccia Che neanche ti immagini Infatti Ho fatto due settimane Da sola a Milano A fare A entrare In qualunque agenzia di moda Perché chiaramente Non avendo Io ho provato anche A fare l'interprete Ma a 17 anni Chi ti prende No Non avevo Mandavo curriculum Ovunque Così Ma a gente Una 17enne Non la prende Allora ho iniziato Ad approcciare Tutte le agenzie di moda Mi hanno tutti Mi hanno tutti un po' Riso in faccia Perché ripeto Avevo due polpacci enormi Non ero altissima Avevo il fisico tonico Ma grosso Che non era quello Diciamo canonico Della modella Soprattutto in quegli anni Erano delle pertiche 182 Belle Magre Magrissime Così E poi A un certo punto Riccardo Gai Ha avuto pietà Perché io sono proprio entrata Con la mia valleggetta E ha detto Io devo lavorare Non mi interessa Lei adesso mi deve far lavorare Sì Proprio così Era l'ultima spiaggia Sennò sarei tornata a Bologna Lui si è messo a ridere Ho detto Guarda Ti pago un mese di affitto E tu Mi porti a casa dei lavori Andiamo a fare i casting Vediamo se ti prendono Non mi hanno preso In niente Davvero In niente Mi hanno portato in faccia Guarda Tutti che mi ridivono addosso A un certo punto L'ultimo giorno Prima di prendere il treno Per Bologna Arriva un casting Stranissimo Della Roberta Ah quindi Del Del culo No Te l'avrei voluto chiedere Perché quando ero Cioè Io non ho mai capito Se era vero o no Perché infatti ho detto È una leggenda O è vera quella cosa Perché Io Lì Veramente La vita è stranissima Perché io ero proprio Scorata Avevo detto Basta Io torno Non so cosa farò Andrò a lavorare Che non so Come Al motor show Non so Non sapevo più cosa fare Arrivo E lì è stato un flash Perché ti giuro Quando io ho aperto La porta di quello studio Dove si facevano I casting Per la Roberta Per cui La prima mutandina Perizoma Mai fatta in Italia Proprio A forma di Enorme Natica Sì sì ma super iconica Poi era diventata Quella foto E tu immaginate Come era il casting Cioè io ho aperto La porta Ho visto 300 tipe Tutte con i pantaloni abbassati A far vedere il culo Una situazione Un attimino Borderline In porno Mi ha chiamato L'agenzia Ma voi siete fuori Io sono una ragazza seria E loro No Guarda che questa è una marca Importante Se ti prendono E io Sì certo Mi prendono E c'era tutta quella E allora niente Hai presente Come ti senti Proprio A tirar giù i pantaloni A far vedere Cioè proprio Quel gesto È stato in quel momento Allucinante No Poi anche contro Tutta la mia cultura Così un po Allora tira giù i pantaloni E mi hanno preso E quella foto Ripeto È diventata Iconica Io credo Perché c'erano state fatte Anche delle cartoline E c'era Io mi ricordo Quando ero più piccolo C'era questa Andavo a scuola In quel periodo lì Io alle superiori E c'era la leggenda No ma lo sai Che la prima È stata Michelle Unziker E fa No ma va Non può essere E invece No non sono stata la prima In realtà la prima Era Rosa Fumetto Che era un personaggio Importantissimo Del passato Ma faceva le mutandine Ah ok Invece il perizoma Quello che ha fatto Diciamo È diventato iconico Perché era molto Molto disruptive Era molto provocatorio Perché la frase era C'era il reggiseno E poi la mutandina La frase era Per stare bene davanti Devi avere una storia dietro Azz Una roba Beh erano andati belli giù Giù pesanti Quindi Poi sono stati Comunque Erano ovunque Anche sulle autostrade Comunque hanno fatto Degli incidenti stradali Non sto scherzando Anche quello è vero allora Ed è per quello Ma sembra una battuta Ma non la è Ed è per quello Che è stata introdotta Proprio quell'anno Per colpa mia Della Roberta Una legge Che togliesse Tutti i cartelloni pubblicitari Dalle autostrade Per evitare le distrazioni Sì perché al di là Adesso Della Roberta Comunque Ce n'erano anche altre I cartelloni pubblicitari Una case history Comunque importante Io andavo a letta La sera Con il senso di colpa E quella cosa lì Comunque è stata La prima cosa Che hai fatto In qualche modo Poi ti ha Ti ha Ti ha Ha portato bene C'è chi fa successo Con Tennessee Williams Shakespeare Io sono entrata Nello spettacolo Da dietro No ma poi C'ha bet Sono diventati Cioè hai fatto anche Tutto l'evento sportivo Mi ricordo Insomma Quello successivamente È diventato una roba Anche simpatica Non puoi scherzare Anche perché Chiaramente All'inizio Ero quella della Roberta Cioè era Veramente Non esistevo La faccia non esisteva La gente diceva Ma tu sei quella della Roberta E come fai a saperla Non immaginavo La faccia così E certo perché giustamente La foto era Solo di dietro Però poi invece Sono nate Tutta una serie Di altre Possibilità Ho lavorato tantissimo Per la perla Tutti questi marchi Ma tu sei sempre stata così Spigliata come oggi Ero molto Allora Sì nel senso Timidissima Però con grande voglia Di intrattenere Perché oggi sei Sei la figura In Italia Che sa fare tutto E che fa tutto Nel mondo dello spettacolo Intenso Canti Balli Ci provo Ci provi O comunque Ci provi molto bene Devo dire Nel senso che Sono quelle figure Che oggi in realtà Non ce ne sono più Tantissime E tu credevi Credo che per ognuna Di queste cose Tu ti sia dovuta Preparare tanto Io ho studiato tantissimo E continuo a studiare tantissimo Perché c'è gente Che nasce col talento E poi però È pigra Perché sa di avere talento E allora non gratta Io dico sempre E anche le mie figlie Ragazze Io Non avevo Dei particolari talenti Forse l'unico talento Che mi posso riconoscere È che davvero Empatizzo con le persone Davvero mi piace Intrattenere Davvero ho la missione Da sempre Già da ragazzina Di fare gruppo Di far casino Di far ridere E io Cioè provo piacere Capito A far ridere O comunque A far star bene gli altri Cioè lo fai con i tuoi amici Come lo fai con le persone Questo è una cosa Però poi Per me l'intrattenimento Era assolutamente A 360 gradi Non esiste Un entertainer Che non sappia ballare Cantare Intrattenere Intervistare Cioè in America È normale così Non ci sono delle Cioè bisogna Far tutto O comunque Crederci tantissimo E portarsi a casa Tutto Capito O far credere agli altri Far credere agli altri Che in realtà Sta cosa La stai padroneggiando Però per fare questo Bisogna studiare molto E io studio Anche poi Per tutte le esperienze Che hai fatto Insomma Io ricordo anche Il festival bar I programmi legati alla musica Cioè ma prima di arrivare Poi al Non so La cosa che forse Ti ha cambiato più di tutti È stato Zelig Non lo so Sicuramente lo Zelig Mi ha dato La possibilità Di tirar fuori Proprio la deficiente Che c'è Ed ero La sorella Scema Di un gruppo Di uomini Che facevano Gruppo E anche C'era proprio Un cameratismo Una sensazione Non so Militaresca Quindi eravamo tutti Nel camerino dietro Ci cambiamamo Tutti in quel camerino Eravamo stretti In questo In questo piccolo Zelig Dell'inizio Perché tu le prime volte Erano ancora In Viale Monza In Viale Monza E tu c'eri già lì Tu sei partita da lì Con Claudio E quando Poi le cose Andavano molto bene Siamo Da Italia 1 Siamo andati poi A finire su Canale 5 Perché facevano degli ascolti Che erano Troppo elevati Per Italia 1 Quegli anni Credo che siano stati Incredibili Poi io lì Ho portato un po' Del mio Perché Pian piano Pian piano Nonostante i comici Che facevano proprio Stand up comedian Quindi loro Per loro era Esco Faccio le mie cose Rientro E io ho cercato Di convincerli Che dovevano fare Dei balletti Con me Con Claudio Che avevano sempre Delle chiuse comiche All'inizio Non ne volevano sapere Poi pian piano Pian piano Si è creato Sto gruppo E facevano Delle cose Esilaranti Sei stata accolta Subito bene Mamma mia Sì È stato proprio È stata La mia terapia Del sorriso Addirittura Sì 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 Cioè Sì sì Perché Contemporaneamente Mentre facevo Quel percorso Che stava andando Così bene Ero intrappolata In una In una setta E quindi Stavo vivendo A livello personale Una tragedia E poi però Andavo a lavorare E il pubblico È stato negli anni di zeri Quegli anni lì Quando più ho fatto ridere Era il momento In cui la sera Andavo a casa E piangevo Però Non finirò mai Di ringraziare Quel momento Perché quando io Andavo lì E c'erano Quei 25 pirla Che mi facevano Ridere come una matta Io Staccavo il cervello Mi concentravo Chiaramente A fare le mie cose Ma mi facevano Morire da ridere Quindi faceva molto Quindi da lì Tu associ quel periodo Anche a questo contrasto Sì Che il lavoro Per me è sempre stato Salvifico In tutte le fasi Della mia vita Perché faccio un lavoro Dove Non importa cosa succede Nella tua vita privata Ma tu il prodotto Lo devi portare a casa Lo devi portare a casa Anche bene E senza far pesare Quello che tu vivi Agli altri Perché Gli altri hanno già Abbastanza problemi No? Per cui Io sempre Perché a me dicono Sempre Ma tu ridi sempre Che cazzo ridi Ma avrai anche tu Dei momenti difficili Certo che ce li ho Però me li vivo Nella mia privacy È chiaro che così Ha tutta un'altra lettura Anche quel periodo Adesso hai citato Il discorso della setta Personalmente a me Aveva affascinato Molto In negativo Ma affascinato in generale Perché Insomma tu poi L'hai raccontato pubblicamente Anche qualche anno fa L'hai scritto nel libro E Credo che insomma Anche tirarlo fuori Sia stato per te Bellissimo Da una parte Un grande sfogo finalmente Sì Ma in quel periodo lì A lavoro Cioè a lavoro A Zelico O altre cose che facevi Lo sapevano Quello che tu stavi vivendo Loro sapevano Tutti sapevano Che io vivevo Qualcosa di strano Adesso oggi Ti dico che è stata Una setta Ma non guai Dire questa parola Perché noi eravamo Un gruppo di persone Secondo la nostra testa Secondo la testa Della persona Che guidava Questo gruppo Che facevano Un percorso spirituale Che non faceva male A nessuno Infatti non ha fatto male A nessuno Perché ad esempio Mia figlia Aurora Non ne ha mai vissuto Un pezzo di questo Perché io Avevo delle domande Alle quali volevo Io volevo delle risposte Perché mio papà È morto Molto presto Ho fatto un'infanzia Abbastanza dura Ed ero la vittima Perfetta Per una cosa del genere Perché ti fai Un sacco di domande E queste domande Se sei una persona Sensibile E curiosa Vanno a sfociare Nello spirituale Nel sottile Vai a ricercare L'energia L'esoterismo Per darti delle risposte Che vanno molto Al di là Delle risposte Che ti può dare La materia Perché quando Ti manca una persona Cara Eccetera E loro sono arrivati In quel momento Per cui io facevo Un percorso spirituale Ma era devastante Perché chiaramente Loro Fanno Love bombing Si chiama Che è il modus Operando di tutte le psicosette Ma anche dei manipolatori Normalissimi C'è tipo C'è gente Che non fa Non è setta Ma che ama Controllare il prossimo Quindi con la manipolazione E non è nient'altro Che all'ennesima potenza Voler controllare E manipolare Una persona Con l'aggravante Che cercano Di spillarti Più soldi possibili Come tante altre sette Come scientologi Come cose Che poi diventano Potentissime Perché l'obiettivo Dei maestri O dei Life guru È quello Di Diventare Il più potenti Possibili In vari ambienti In cui possono Lavorare No? E questo è quello Che è successo Beh cavolo Quanti anni avevi In quel momento? Eh I migliori anni Della mia vita Dociano Perché dai 24 Dai 23 24 Ai 27 Pieni È una cosa Che fa Un po' paura No? Perché ce ne sono Tantissimi Di questi casi Ho mai capito Di vedere documentari Di sentire Delle altre storie In Italia Ma anche nelle cose Che sembrano più Che partono come corsi Di formazione E poi diventano Ma guarda Che la manipolazione Ripeto Anche nelle coppie Che poi magari Si lasciano E lui diventa Ossessivo Manipolatore Eccetera Cioè Il gusto Di prendere Avere il potere Su una persona Manipolarla È troppo goloso Capito? Quindi ci sono Più di 600 Psicosette In Italia E la gente Ci molla lì Perché chiaramente È molto facile Andare Se tu sei una persona Comunque Edotta Intelligente Non emotivamente Ma di testa Ci metti un secondo Se hai un pochino Di psicologia Alle spalle A capire dove stanno Le debolezze Dell'altro E manipolarlo Ci metti un nano Ma non c'entra Con l'intelligenza Cioè La vittima In questo caso Io ho incontrato Quando sono uscita Dalla setta Direttori di giornali Che mi hanno abbracciato Hanno detto Noi siamo stati Anche noi vittime Di cose del genere Eccetera Un sacco di gente Curiosa Di capire Come funziona La vita A 360 gradi Possono cadere In una situazione così Anche perché Tu in quel periodo Non so Immagino Come chi poi Si appoggia Ad altre cose Vuol sentirsi dire Delle cose Cioè capisce Quello che vuol sentirsi Dire in quel In quel momento Sì In pratica Loro Chiaramente Vanno a lavorare Sulle tue mancanze Soprattutto A che fare Con un grande bisogno Di amore Di affetto Un sentirsi Soli Perché magari Uno appunto Non ha Delle basi Determinate basi Che arrivano Dalla famiglia Poi loro Sono intelligentissime Perché prima Ti riempiono Di amore Poi Quando hanno capito Che ti hanno sotto controllo Ti allontanano Da tutti quelli Che potrebbero intervenire Quindi familiari Mariti Di persone care Di persone care E sono abilissimi Perché Quando loro Ti allontanano L'altro Dall'altra parte Si incazza Cioè invece di Prenderti E dire No amore Guarda che Ci penso io Stai serena Che questo percorso Lo facciamo insieme Ti aiuto io A uscire da qui E quindi Non daresti manforte A loro Si spaventano I familiari Si spaventano Perché ti vengono Ti vedono Che improvvisamente Diventi una Che non vuole più Saperne Eccetera E ti dicono Che sei pazza O ti dicono Guarda Fatti curare E nasce il conflitto Ma non è una colpa È proprio che Giustamente Uno non sa Come gestire Una cosa così Ma lì è una persona Che ti dice Cosa devi fare No Eh sì È una persona Quella che Ripeto All'inizio Ti prende per Cioè ti dice Io sono la tua nuova famiglia Perché vedi Loro non ti considerano Ma se tu hai bisogno Alle 4 del mattino Io ci sono Ti abbraccio Ti accolgo Io avevo ritrovato Il rapporto con mio padre Con il quale non parlavo Da 6 anni Grazie a questa persona Quindi anche La L'attitudine La gratitudine Che aveva nei suoi confronti Era immensa Cioè lei Mi aveva fatto tornare Da mio padre Non la mia famiglia Lei Mio padre Poi dopo un anno è morto Se non l'avessi ritrovato Sarei Avreste avuto un rimorso Un rimorso pazzesco Quindi è tutta la roba così Però Guarda Importante averlo fatto Questo percorso Perché non è che poi Io sono uscita da lì E ho fatto i miei attacchi Di panico Ho fatto 3 anni Tutte le notti Alle 3 mi svegliavo Pensando di morire Perché loro mi avevano detto Che sarei morta Nel sonno Staccandoti Staccandomi da lì Staccandomi da lì Staccandomi da lì Eccetera Anche se io non ci credevo Ma aveva lavorato Dentro di me Questa cosa Quindi alle 3 facevo E poi avevo l'attacco Di panico Mamma mia In quel periodo lì Ero io e Auri Da sola Quindi Mi sono fatta aiutare E tutto Però vedi il pubblico Non ha mai saputo niente No perché tu poi appunto Dicevi in quel periodo Anche c'era Zelli Che c'era il periodo Più sorridente Esatto Però guarda Il lavoro È stato sempre La mia salvezza Perché io poi L'attacco di panico Di notte Chiamavo il mio medico Carissimo Che lo saluto Gabriele Pellicciotta Che ormai Mi seguo da quando Ho 18 anni E lui alle 4 del mattino Vero medico Devoto Devoto Al suo mestiere Poverino Alle 4 Io Gabriele Sto morendo Lui No mettiti giù Sdraiati Bevi un po' di acqua Respira Vedrai che va tutto bene Sudorini freddi Così Beh Fu il dottore Poi incredibilmente Razionale In quella cosa lì Ti poteva un po' aiutare E ovviamente Questa cosa poi Ha generato Tutta una serie di situazioni Dicevi tu Anche nella tua famiglia Nelle situazioni Una di queste Anche detto poi Da te successivamente Anche la relazione con Eros Ha avuto Insomma Noi ci siamo lasciati Per colpa di questa cosa qua E poi Quando sono uscita Della setta Il primo messaggio Che ho ricevuto Proprio è uscita L'ansa Perché io poi Me la sono cavata da sola E quindi mi sento Molto molto forte Ad essere uscita Da una dipendenza Perché è una dipendenza Quella Come l'alcolismo Come la tossicodipendenza Da sola E quando sono uscita E quando sono uscita In quel periodo Avevo alle spalle Un ufficio stampa Molto importante Bibi Ballandi Che mi aiutava Eccetera Perché mi ero tutelata E' uscita la notizia Michelle Hunziker Lascia la tuenda Che era L'agenzia che avevamo creato Apposta Diciamo Di questa Di questa setta E dopo tre minuti All'uscita Del Mi arriva un messaggino Di Eros Che dice Guarda che se hai bisogno Io ci sono E mia madre anche Guarda che Non vedo l'ora Di ritrovarti E poi Ha ruota Nell'arco di Tre ore Tutti Pier Silvio Berlusco Tutti che erano felici Che ero riuscita a uscire E perché hanno vissuto E non si capaci No probabilmente Non si capacitavano Di come tu fossi stata In qualche modo Lì dentro No è impossibile Era anche impossibile Per loro intervenire Infatti Adesso non so se Sono contento Che ne stiamo parlando Proprio perché C'è tanta altra gente Come dicevamo Che magari è dentro Una situazione del genere Tu ti senti Cioè Che consiglio daresti Ovviamente A chi è dentro Ma anche a chi deve interagire Cioè A chi si rende conto Che c'è una persona Che in questo momento È plagiata da qualcun altro Guarda io Mi emoziono ogni volta Che una persona Si avvicina a me Mi dice Guarda io Ti giuro Mia figlia Era in questa situazione Gli ho messo lì il libro Sul letto di notte L'ha letto E ne è uscita Per me Aver salvato anche Non so 25 persone Da una violenza del genere Mi riempie il cuore di gioia Comunque Proprio recentemente In un aeroporto Si è avvicinato Nella mamma Disperata Con gli occhi Così Quando mi ha visto Mi ha detto Mia figlia Intrapolata in una setta Io ho sottolineato Tutti i passaggi Che hai scritto E spero tantissimo Che lei la legga E io guarda Dico a tutti Che sono là fuori Che sono magari Che si sentono soli Che hanno bisogno Di affetto Eccetera Ricordatevi sempre Che non esiste Nessuno Che ti chiede Se ti chiedono i soldi Non è affetto Non è amore Non è aiuto A meno che Vi appoggiate Uno psicologo Uno psichiatra Un professionista Un medico Un prete Un amico Però non credete A queste cavolate Di guru Capito State attenti State attenti A non essere manipolati E non dare dei soldi A questa gente È la red flag più grande Quella È importantissimo E io lo continuo a dire Perché Chi ti vuole veramente bene Non ti chiede il delaro Certo Se non è un professionista Ok Che non ti vuole bene Il professionista Fa il suo lavoro Che è diverso Quindi love bombing Ok Sei mio fratello Sei mio amico Non mi chiedi soldi Per fare quello che fai Sei un mio paziente È un'altra cosa Quindi diffidate Ah questo è importante E quindi scusami La domanda poi È anche un po' spontanea Ma secondo te Se non ci fosse stato Questo discorso Tu con Eros Saresti ancora insieme Ah questo non si sa Non si sa Cosa sarebbe potuto succedere Questo non ci è dato a sapere No perché Quella è una sliding doors Incredibile È una sliding doors Incredibile Io comunque dico Che Alla fine Il destino È il destino E la vita Va come deve andare Ed è giusto che vada così Perché oggi Io sono Quello che sono Grazie a tutto il mio passato Così come tu sei Quello che sei Grazie al tuo passato Ogni cosa fa Ogni cosa fa un pezzo Però io non vivo nel passato Mai Cioè io vivo nel qui e ora Non vivo neanche il futuro Cioè ho dei progetti Ma per me non è Nel futuro Nel passato Cioè per me In questo momento Ci sei tu Che per me sei importante Perché stiamo facendo Questa bellissima chiacchiera Non esiste nient'altro Non ne frega niente Di quello che sta succedendo intorno Perché Io vivo il presente Qui e ora Il qui e ora E anche se Lo so È una frase fatta Ma se riesci davvero A vivere la tua giornata E trarne il massimo Nel qui e ora Guarda che è una figata E io ci sono arrivata un po' tardi Però grazie al percorso Sì Se no Non ci saresti magari neanche arrivata Adesso ti giuro Che sono proprio In un momento in cui Faccio solo Quello che mi sento Beh Che è un grande Un grande traguardo Personale Ma anche andare a cena Con persone Che magari Ti dicono No beh È giusto che tu vada a cena Con questa persona Perché magari Fa network Se io non sento Che quella persona Per me è un plus Nella mia vita E non ne ho voglia Perché magari ho altre cose Io non mi faccio più Dei problemi Perché il tempo Che noi abbiamo Quello sì Che vale Quindi se te lo regalo Io te lo regalo Perché spero di essere Un plus per te Ma tu devi essere Anche tu Un valore aggiunto No Sì sì No no Lo penso anch'io Però Riuscire un domani Ad avere anche Questa bella libertà Tante volte siamo Schiavi di noi stessi Di questi nostri Pensieri Che potremmo eventualmente Fare mille altre cose Però Beh È impressionante Pensare durante il tuo percorso Quante cose poi Hai dovuto anche Superare Non avevo mai pensato Al fatto che tutto Questo della setta Venisse Nel periodo di zeri Che quindi Che ci fosse Anche un contrasto emotivo Così Così forte Però quello di zeri Poi è stato un percorso Che dicevamo Ti ha dato uno slancio Incredibile Soprattutto nei confronti Della gente No Cioè lì è proprio dove Sì nei confronti Delle donne Soprattutto Cosa che per me È sempre stato Un grande obiettivo Il fatto di far squadra Con le donne Il fatto di Non rappresentare Una rivale Nelle case italiane Perché Ero convinta Che la vera Che la vera emancipazione La vera femminilità Si potesse espletare Serenamente Anche con un tacco dodici E con un bel decolleté O vestita anche sexy Eccetera Ma senza dar fastidio Alle altre donne Perché È come tiponi Che cambia Perché se tu Fai squadra E fai capire alle donne Che sei integra E pulita E che sei Loro amica Empatizzi Allora 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 le donne Si rilassano E per me Era un obiettivo Primario Anche perché poi Tu sei sempre stata Molto autoironica Quindi eri la prima Anche a prenderti in giro Lì poi con Claudio Ma figurati Se lì Uno sfottò dietro l'altro Cioè se hai Un tanto così Se sei permaloso Muori Non puoi Non puoi farci No no Io sono una Che incassa Con Con grande Però questo ti ha avvicinato Tantissimo Al pubblico Come dicevi tu Anche quello poi Femminile Perché sai Loro dicono Io corrispondevo ai cliché Dell'epoca Ero biondina Avevo fatto la Roberta Capito La gnocchettina Certo Però il fatto che capivano Che mi vergognavo tantissimo A fare la vamp Cioè io non ero una Che tendenzialmente Magari mi faceva Un servizio fotografico Su Vanity Fair Con dei Dei fotografi Della Madonna Mi dicevano Dai Guardami Sexy E io ridevo Come una cretina Era difficilissimo Perché mi sentivo Scema A fare Capito La boccuccia Poi però Man mano Impari anche quello Impari anche Non vergognarti Della tua femminilità Della sensualità Perché fa parte Della emancipazione Perché non è Che emanciparsi Che ha a che fare Solo con i diritti Vuol dire Togliere della femminilità Da te stessa Cioè l'emancipazione È Io voglio essere Desidero Essere femmina Fino in fondo Però con i diritti Però quanto Quanto ci hai messo In un panorama Poi come quello italiano Che su tante cose Ha un po' di difficoltà A far capire Che tu eri di più Cioè tu Eri pronta a fare Tante altre cose Che poi hai fatto E quindi uscire Da questo stereotipo Che magari avevi In quel periodo È stato molto difficile Perché ho vissuto Gli anni 90 Che erano assolutamente In televisione Tu eri ragazzino Però negli anni 90 Eravamo tutti Cioè la figura femminile Era tendenzialmente Sempre Comunque molto sexy Poco parlante Poche conduttrici Poche Entertainer Non ne parliamo Cioè eravamo di servizio Però La cosa Secondo me Che per me È stata importante È Non andare A cercare Di cambiare un sistema Perché non puoi essere Così Saccente Di pensare Che tu In un nanosecondo Arrivi Adesso è arrivata Non si vuole spogliare Non vuole fare Tutto quello che Normalmente Veniva richiesto Veniva richiesto E cambia il sistema No Perché ti mandano Appedate in culo Fuori Fuori dall'azienda Invece io Ho cercato Sempre la chiusa comica E l'autoironia Quindi Mi veniva chiesto Di mettere una minigonna Inguinale Mi vergognavo tantissimo E di fare uno sketch Dove mi spogliavano E rimanevo in costume Allora io dentro di me Soffrivo Perché dicevo Cacchio ma sempre lì Dobbiamo andare a parare Però poi Avevo anche Il mio management Che era fortissimo Graziella Con franchino Eccetera E loro Mi spronavano A dire Ma prenditi per il culo Tu fatti spogliare Poi alla fine Ti fai una risata Una battuta E la porti a casa Con ironia E da lì è nato Un format Cioè Non prendiamoci Troppo sul serio Che tanto stiamo facendo Intrattenimento E alla fine Piano 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 Ho potuto Trovare la mia strada Ecco perché poi Sono entrata a Zelig E avevo carta bianca Con Gino e Michele Che mi dicevano Fai quello che vuoi Ma questo è anche cambiato oggi Insomma Sarebbero alcune cose Impensabili E impossibili Non tanto Dico Nei tuoi confronti Ma anche in generale No Ma adesso c'è un grande rispetto E Firmo il mio programma Che si chiama Michelle Impossible Dopo 20 Michelle Impossible È un naming Bellissimo Ma sai chi me l'ha suggerito Fiorello Davvero Sì 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 Diceva No tu devi fare un programma Che si chiama Michelle Impossible Cioè È un naming Incredibile Suona bene E quel programma È stato veramente Il sogno incoronato Di un percorso Bellissimo Faticosissimo Perché tu mi puoi immaginare Che comunque alla fine Per portare a casa Sempre il risultato Anche oltre ogni aspettativa Oltre Ogni pregiudizio E soprattutto Perché in tanti Non hanno creduto in me Ma è ancora meglio Perché se non credo in te Porti a casa il risultato È sempre un effetto Wow Se invece hanno aspettativa È più difficile No E quindi adesso Firmare un programma Dopo 25 anni Che è proprio mio Dove posso fare le cose Che mi piacciono È la cosa più bella L'avresti detto all'inizio Ma io neanche pensavo Di poter mai fare televisione Io arrivo dalla Svizzera Cioè noi Non abbiamo Non avevamo E non abbiamo neanche adesso Come cultura Il glamour La moda L'intrattenimento Che poi Anche Svizzera Sei diventato un personaggio televisivo Anche lì Io lavoro in Germania In Germania In Germania Tantissimo E di conseguenza Anche la Svizzera tedesca Perché loro guardano la tv I cinesi guardano la tv italiana Guardano Italia 1 Canale 5 Anche Rai 1 Insomma E i tedeschi I svizzeri tedeschi Guardano la tv tedesca Per cui alla fine Sono molto contenti Riesci a fare A unire Che differenza c'è Tra il pubblico tedesco E il pubblico italiano Quando ti approcci Culturale Solo culturale Perché chiaramente La globalizzazione Anche in televisione La tv generalista Ha fatto sì Che un sacco di format Che vedete qua Ci sono ovunque La cosa che chiaramente cambia Sono i periodi storici La cultura La politica La politica economica Dei vari paesi E chiaramente la Germania Come politica economica Era molto diversa Da come stavamo noi Per dire Noi Sette anni fa Siamo entrati In una crisi di atavica Dove chiaramente Anche gli editori Facevano fatica A investire in cose nuove Perché bisogna Portare a casa La sicurezza La certezza Anche per la pubblicità Eccetera E in Germania Non c'era ancora Per cui ancora Grandi investimenti Si spendevano soldi Per fare intrettenimento Qui siamo in ripresa E in Germania Adesso c'è la crisi Incredibile È culturale È culturale È come girare Tra l'altro Da tutte le cose Che hai fatto Una che io ho Particolarmente nel cuore Da fan È Love Bugs Cioè quella è stata una cosa Anche io ce l'ho nel cuore Che oggi potrebbero essere Delle stories di Cioè c'è chi prova Io vedo ogni tanto No? Delle coppie Che fanno Love Bugs su Instagram Love Bugs su TikTok Ma quello che avete fatto voi In quel periodo Con Fabio De Luigi Era incredibile Guarda lì ci siamo proprio trovati Perché Fatma Ruffini Che era una grande Talent Scout Di format E di tante altre cose Anche di personaggi Ci ha proprio reclutato Ci ha presi Ci ha chiamati Ci siamo incontrati Per la prima volta E ci ha fatto vedere Questo format canadese Che si chiamava Love Bugs E noi però L'abbiamo proprio fatto A misura su di noi Lui era Fabio Ero Michelle E lì Era molto nuovo Il fatto di avere Una camera fissa Così come adesso C'è il telefono Ma lì Non esisteva neanche Non c'era i social Non c'era niente Per cui Fare uno sketch Di due minuti e mezzo Tre minuti In presa ridiretta Con la telecamera fissa Con le mani che entravano Ti ricordi no? Cioè gente da fuori Così Era una grande sfida Ma io ti giuro Io mi ricordo Dovevamo portare a casa 12 o 14 minuti Di girato al giorno La fatica Perché ridevamo Così tanto E poi la frustrazione Non portare a casa Il materiale Perché Se non ridevamo noi Era il regista che rideva Il produttore Allora alla fine Ciak Si gira Tutti fuori Perché se no Non ce la facevano Non ridere Però si sentiva Posso dire Cioè c'era una Michelle 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 Ancora adesso Quando io lo chiamo Io lo chiamo Baghino Ah certo E' rimasto Baghino Io quando lo chiamo Lui rispondo Che bello Comunque tu hai lavorato Con un sacco di personaggi Incredibili Chi è stato maestro Anche per te Per me sono stati tutti i maestri Io ho sempre detto Di aver avuto la fortuna Di volermi contornare Di gente Che la sapeva più lunga di me E ancora oggi lo faccio Anche nel mio Diciamo nuovo progetto Che ormai non è neanche più Tanto nuovo Di imprenditoriale Io adesso frequento Chi ne sa di più di bene In modo tale da imparare Sempre qualcosa da qualcuno Ho avuto partner Della Madonna Da Pippo Baudo Che era all'epoca Un guru Ancora adesso Un guru Della televisione Un grande raccontatore Che ha creduto in me Antonio Ricci Che mi ha dato Tantissimo E tuttora Mi dà tantissimo Perché ha creduto in me Piuttosto che Gino e Michele Partner come Claudio Bisio Che aveva già fatto Un miliardo di anni Di teatro Quando sono arrivata io Lui faceva Aveva fatto Aveva lavorato Al piccolo Cioè era Un grande Capito Piuttosto che Gerry Che l'ho incontrato Per la prima volta Che avevo 17 anni A Modamare Portofino Lui se la ricorda benissimo Cioè tutti i miei partner Sono stati comunque Importanti per me E sono stati anche un po' Miscelizzati loro Dalla tua presenza Poi dopo si Si miscelizzano Sono stati un po' Miscelizzati È venuto adesso Sto termine Non so Perché sai che cos'è La cosa che funziona di più In una coppia E io ho sempre molto sostenuto La coppia Di intrattenimento Perché Chiaramente Sei più forte Se tu Non hai l'ansia Di dover primeggiare Non hai l'ansia Di fare la prima donna E ci sono prime donne uomini Prime donne Chiaro Donne Se capisci che Illuminando il tuo partner Innalzandolo Vinci ancora di più E vince lui E ne guadagni tu Ed è questo il segreto No? Quindi I partner Con i quali lavoro Gerry È uno così Noi due Non facciamo altro Che cercare di Di alzarci A vicenda E c'è una tale stima Vabbè Noi siamo fratelli Però Proprio stima lavorativa E questo arriva E quindi Questa cosa è Molto più forte Capito Poi puoi fare i progetti Tra virgolette Quando uno dice Quando farai un one woman show Ok Michelle Impossible È un one woman show No Perché è da sola Non fai un cazzo Scusa Il concetto è giusto Perché Non vinci mai Se non hai una squadra È solo con la squadra Che puoi vincere E la gente pensa Che Che chi Poi mette la faccetta finale Sia poi quello che vince Non può vincere Perché tu prendi Un conduttore della madonna Lo metti in un contesto sbagliato In un programma Che non funziona Con degli autori sbagliati Non fa Ascolti Non funziona Anche se è bravissimo Ne approfitto Tra l'altro Che c'è qui anche Grazi oggi Tu sai che io Voglio fare una puntata con Grazi Sto cercando di convincere Che è la nostra manager Qualcosa ne ha da raccontare La ragazza Io credo tantissime Soprattutto poi Il punto di vista Del manager O comunque Di chi ha vissuto Anche Tanti cambiamenti Che ci sono stati Intorno a noi E che se lei Dovesse svuotare il sacco Dobbiamo proprio Sbaraccare tutti Cioè tutti Devono sbaraccare No perché Immagini uno che impazzisce E dice basta Noi non abbiamo problemi Chiaramente Però c'è gente Che secondo me Potrebbe morire Se tu dici le cose Come stanno Più che altro Sono tutte storie Di grande ispirazione A me è impressionato Poi quando ho iniziato A lavorare anche io Con voi Con Grazi eccetera Nel vedere il gruppo Lavorativo Che è veramente Una grande famiglia Quanto è stato In un modo in cui Tutti negli anni Appena c'è qualcosa Che non va Cambiano manager Cercano di dare anche Io penso Tante volte Poi ci sono situazioni Di situazioni Però degli escusanti Di alcuni fallimenti Di alcuni deficit Personali Ad altri E quindi ci sono realtà Dove magari Realmente c'è qualcuno Che non sta credendo in te Oppure in realtà Ci sono Cambiano Tu hai sempre avuto Per tutti questi anni La stessa famiglia Adesso io uso questo termine Perché veramente L'ho toccato con mano E ci sono dentro Per me è proprio veramente Come per te Cioè questa è una famiglia E la famiglia Si tutela Si protegge E Dobbiamo anche dire Che siamo fortunatissimi Perché è di Franchino e Graziella Che ne è due Adesso ce n'è una Che è la Grazie Ma non è che Non è plagiaria È proprio Esistono dei valori No? È come quando uno parla Di un brand Adesso io ho il mio brand Che ha dei valori Questi valori Sono un fil rouge Sono Sono Fondamentali Per la riuscita E il successo Di un prodotto finale Loro sono partiti Che avevano I loro valori I valori Che i loro artisti Dovano essere Puliti Gestibili Umili Che seguissero Anche La visione Una visione comune Chiaro Che quando hai vent'anni È la visione del tuo manager Poi cresci E diventa una visione comune Ma è sempre Appoggiata dagli stessi valori E coloro Che sono con noi In agenzia Sono persone Se una mia collega Se tu domani mattina Stai male Io sto male Se Ilari ha un problema A me viene male Cioè noi siamo una family Per cui è una fortuna inerrabile Perché oltre alla grande professionalità La competenza Che ha Graziella Nel gestire i suoi artisti Noi abbiamo creato Un gruppo Fortissimo Coeso È una rete Che è impossibile Da spaccare E tu che ne hai viste tante In questi anni E stai vedendo anche Le nuove generazioni Credi che questa cosa Manchi Oggi Ma io Non voglio dire questo Perché io penso Che ci siano tante persone Oneste Brave Con voglia di fare Che possono nascere Che ci sono Eccetera Sicuramente C'è un calo valoriare Una grande crisi valoriale In generale Tu lo vedi Quello che sta succedendo Quando per esempio Questa povera ragazza di Palermo È stata stuprata Dai sette ragazzini Che non si sono pentiti Neanche per un secondo E neanche i parenti Cioè La cosa più grave È proprio che C'è crisi Ok Quindi Come c'è crisi In questo senso Dove uno dice Come è possibile Che sette ragazzi Neanche uno di loro Si penta Di una cosa Così violenta Come quella Che a me viene da piangere Solo a pensarci La stessa cosa Succede anche nel lavoro C'è come se non ci fossero Delle basi Solide No Per cui Chi gestisce gli artisti Forse Mi permetto di dire Tante realtà Non guardano tanto Non guardano tanto La persona L'anima Quello che questa persona Davvero può dare Nella sua Ed è difficile investire È una fatica Investire su un personaggio Cioè loro hanno investito Tempo Di vita quotidiana Di vita quotidiana Per creare Un percorso A una persona Ok Le nuove agenzie Comunque sono molto Io lo vedo Che si tutelano Con dei contratti Che sono quasi Ridicoli A mio parere Perché sono contratti Che fanno capire Che non c'è la volontà Anche di un gentleman agreement Dove io dico Io credo in te Per cui Ok Ci sono delle percentuali Abbiamo un rapporto Facciamo un contratto Ma deve essere Una roba Giusta e onesta Invece Salassano Gli artisti Anche perché oggi È proprio cambiato È cambiato tutto È cambiato tutto Quindi Io penso Che le grandi rivoluzioni Abbiano sempre La upside E la downside Adesso abbiamo Grazie ai social Una nuova realtà E tante nuove opportunità Di business E quindi È chiaro Che si creano Delle realtà Molto virtuose Sia per chi Fa business Sui social Sia dall'altra parte Per chi gestisce Chi fa business Sui social E viceversa Però È chiaro Che ci sono Anche Nelle grandi rivoluzioni Poi Degli errori di percorso Io Che faccio questo mestiere Ormai da 27 anni Mi accorgo Che c'è un po' Una crisi valoriale Però Potrebbe Poi cambiare Qualcosa Una volta che si aggiustano le cose E si capisce che Il social può essere comunque abbinato alla televisione Tutto si unisce Intrattenimento E intrattenimento Ok E quindi io posso gestire un personaggio A 360 gradi E anche fare un percorso insieme Con un po' di fiducia Sì sì Ma poi proprio il concetto del percorso Perché anche tutte le cose che hai raccontato tu oggi Fanno parte di un percorso Che tante volte Non si dà Sono seguiti Perché l'artista è artista Proprio perché ha bisogno di essere seguito sotto altri punti di vista Dopo cambia A 40-50 anni Anche tutte le parti diciamo economiche Piuttosto che Si Cioè riesce a gestirle I rapporti Ma all'inizio Un ragazzino Lo devi prendere Ci devi credere E devi investire Tempo e fatica Per chiudere Ricollegandomi una cosa detta all'inizio Abbiamo citato Auri salutandola Quando avevamo Tante volte abbiamo chiacchierato Con lei abbiamo Spesso ma non qui Anche in generale Parlato di alcune cose Che mi hanno anche un po' fatto Rivalutare Tante cose che io davo per scontato O per cui io avevo dei pregiudizi Cioè tante volte Venendo io diciamo Da un'altra realtà Dicevo Cacchio però Pensa che fortuna Una ragazza È già la possibilità Di fare un certo tipo Di esperienze Subito Perché magari Sua mamma Suo papà Bababà Per poi scoprire In realtà Che ci sono un miliardo Di difficoltà Anche superiori A volte In quel tipo di percorso Insomma Ho sempre sentito il suo Di punto di vista E di racconto Su questa cosa Dall'altra parte Come un genitore Che sa Che Sua figlia Ha Tra virgolette Il peso Che poi è una cosa bella In realtà Di un percorso Fatto dai genitori Come può essere stato Il tuo E quello di Eros È una grande sfida Quella di Auri E lei la vincerà Perché ha una grande Intelligenza Prima di tutto emotiva È una ragazza Sensibilissima È una ragazza Di cuore E ha Delle skills Che io non avevo Cioè Ha una genetica Oggettivamente Quella va sul palco Non gli frega niente E canta divinamente Non deve Quasi non deve studiare E poi ha anche studiato Però su questa cosa del canto Mi ha detto una cosa Che mi ha lasciato Molto impressionato Cioè Io vorrei cantare Però non lo faccio Perché Ho paura Che appena lo faccio Mi rompono Le scatole Perché È lì Che deve vincere La sua sfida Perché Noi siamo Nati Lei è nata E cresciuta In un paese Che è normale Cioè Per gli altri È normale Avere un figlio Che fa lo stesso mestiere Del padre Non so Quanti avvocati Hanno i figli Che poi fanno l'avvocato E quanti medici Hanno i figli Che vengono ispirati Dai proprio papà O della propria mamma E poi vogliono fare il medico Cioè Quello Ok E invece Non si sa Per quale motivo Chi fa spettacolo È un raccomandato Chi fa musica È un raccomandato Chi fa cinema È un raccomandato Se figlio d'arte Invece Se fosse nata E cresciuta in America Sarebbe Una Un valore in più Perché comunque Tutti gli attori Hollywoodiani Che vedete oggi Sono assolutamente Figli di grandissimi attori Nessuno dice niente E tutti applaudono E dicono Ok Noi riconosciamo Una Un valore genetico Quindi c'è DNA genetica E vissuto Cioè Auri Ha vissuto Dietro i palchi Del teatro mio Che facevo tutti insieme Appassionatamente Viveva dietro le quinte Vive Respirava la polvere Del teatro Respirava I tour del papà Sì È cresciuto con la musica Perennemente in casa Come fai a pensare Che questa cosa Non abbia Un'influenza Un'influenza Sulla sua persona È chiaro Che questo paese È un paese Che giudica moltissimo Con tanti pregiudizi Ed è più facile Dire Raccomandata Facile Invece È più difficile Perché Devi superare La paura Del giudizio Io glielo dico Sempre ad Auri Dico Tu sei fortissima Sei bravissima Hai talmente Tanti talenti E devi anche Un po' Togliere tutte Queste paure Che hai Del giudizio Anche se Lei è diventata Molto forte Però comunque È pesante Se tutti i giorni Ti dicono Che sei una raccomandata Che ti mettono In confronto Comunque con tua madre Anche se tu Ami Profondamente Tua madre Però magari In spiaggia In costume Non ti metti Quando sei adolescente Perché ti dicono Che sei un cesso Che hai la cellulite Pensa alla cattiveria Nei giornali Cioè E tu pensa Che cosa può traumatizzare Un ragazzo Nel proprio sviluppo Una cosa del genere Per cui Lei è già Molto oltre E potrebbe già Vincere Però è un percorso Che deve fare lei E lo farà Ah sicuramente Ma tu a proposito Su questa cosa qui Su alt Tu leggi commenti Cioè sui social Io sono una Che non leggo tanto Io leggo i commenti Salto Tranquillamente Le Le cattiverie Non le cancello Le lascio lì Perché poi si scannano Con i miei fan Sì 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 Creando engagement Si crea Si crea engagement E proprio Si scannano Sì sì Mi difendono Mi difendono Io amo Le persone che mi amano Mi amano profondamente E ne ho pochissimi Di hater Devo dire la verità Sono molto fortunata Però Li lascio Li salto Proprio Perché Lì sotto questo aspetto Io ho la pellaccia Perché se tu pensi Che nel 2002 Quando una mattina Mi sono svegliata E Sulla stampa In prima pagina C'era scritto Michel Unziker Posseduto dal diavolo Detto da padre Amort Che era un fortissimo E rinomatissimo Esorcista del Vaticano Io lì Mi sono svegliata E ho detto Ma sarà vero allora Perché se no dice lui Forse io sono posseduta Dal diavolo Capito Cioè capisci E da lì Io ho pensato Io non lavorerò più E invece Non c'è stata una persona Che non mi abbia messo Il bambino in braccio Per fare la foto Una persona Che abbia creduto A sta cagata Però Io il giudizio Degli altri Cioè ho vissuto Un percorso lavorativo Con colleghi O colleghe Che facevano interviste Certi colleghi Che dicevano La Iena Riddens Cioè mi hanno chiamato In tutti i modi E quello ti crea Chiaramente Ti viene un callo Non ci rimani più male Per cui Cosa vuoi che siano Due hater Che scrivono Cioè che cosa sono per me Due persone Che dicono cagate O cattiverie gratuite Se invece Una persona Che stimo Se tu domani mattina Mi chiami Mi dici una cosa Io la valuto Cioè tu dici chiaramente Il peso è in base a chi dice Poi quella cosa lì Se non No no Perché non tutto vale tutto Che è la vera grande cosa Deve cominciare A dare il giusto peso A questi hater Cioè è un mestiere Partono gli shitstorm Che poi dopo Fa figo Fare i like E gli hashtag Per avere qualche like in più Perché a quel punto Io mi scaglio Contro questa persona Senza neanche sapere Che cosa è successo Però ecco Uno deve farsi un po' La pelle direi E direi che l'hai L'hai fatta ampiamente Una cosa che invece Del tuo percorso Ha fatto il giro Secondo me È poi diventata un cult Ed era partita Come una cosa Ma che cosa sta facendo Però eri molto più giovane Di Alex Lariete Io devo solo dire Una battuta Perché quello è diventato Un film cult Per delle generazioni Abbiamo sbagliato tutto Sai perché? Perché se l'avessimo fatto Cioè L'avessimo impostato Come film comico Avrebbe vinto Certo Ogni cosa Invece Guarda Sulla carta Avevo vent'anni Venti Albertone Aveva appena lasciato lo sci E stiamo parlando Di una leggenda Dello sport Ma anche adesso Ma all'epoca Credetemi Cioè Alberto Ha fatto storia Quindi lui Lascia lo sci C'è Chigori Che all'epoca Faceva i film Più importanti Dice Bisogna fare un film Con Alberto Tomba Mi fanno un casting Regista Damiano Damiani Che aveva fatto La piovra Cioè Ditemi voi Chi Dove c'era Esatto Poi Quando siamo arrivati Sul set L'accento Però poi Sono quelle cose Che fanno il giro Ma guarda Che lui ancora adesso Quando lo danno Su Rai 2 Ma sai gli ascolti Che fa E ogni volta Dice Vedi Sti stronzi Capito un cazzo Bella gnocca Hai visto che siamo Ancora lì In televisione Michelle Grazie davvero Per questa Che carata Per questo spirito Credo che potrà essere Veramente tutto Di grande ispirazione Grazie a te Per chi ci ha Per chi ci ha ascoltato C'è un sogno ancora Di qualcosa Che vorresti fare Non è ancora tanti Tantissimi Questa è la figata E complimenti anche A parte che tu hai citato Insomma La tua attenzione Per il mondo delle donne La tua vicinanza In tanti casi E tu sei stata Una delle prime Ormai da quanti anni C'è la tua associazione Dal 2007 Dal 2007 Quando il tema Non era così centrale Come oggi Assolutamente Doppia difesa E aggiungo Che le due leggi Che sono oggi In vigore Che non lo sa Quasi nessuno Ma perché Non è che lo Dobbiamo sbandierare Perché è importante Che ci siano Sia la legge Sullo stalking È stata scritta Da noi Dalla fondazione E poi passata Alle pari opportunità Dell'epoca Quindi la legge Dello stalking E anche codice rosso Che è un mezzo Importantissimo E far sì che le donne Vengano ascoltate Nell'arco di 48-72 ore E dal giudici È comunque partita Da doppia difesa Per cui è importante Muovere le cose Continuare in questa battaglia Che chiaramente La situazione Non sta migliorando Sotto tanti punti di vista Ma almeno L'attenzione È molto più forte Su questa tematica Assolutamente Infatti volevo chiudere Insomma anche con questa cosa Beh è una delle tante cose belle Che stai facendo Che hai fatto Grazie davvero Grazie a te Michelle Unzi Che è passata davvero Dal basement A tutte queste cose Te le volevo chiedere Da un sacco di tempo Poi dobbiamo fare Per un'altra puntata Deve facciamo solo i cazzoni Solo cazzoni Solo cazzoni Grazie